Vogliamo leggere insieme la parola del Signore che troviamo scritta nell'Evangelo di Marco al capitolo 7. Leggiamo dal versetto 31. Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e passando per Sidone tornò verso il mar di Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. Condussero da lui un sordo che parlava a stento e lo pregarono che gli imponesse le mani. Egli lo condusse fuori dalla folla, in disparte gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse, effatà, che vuol dire apriti. Egli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano. Ed erano pieni di stupore e dicevano, Egli ha fatto ogni cosa bene. I sordi li fa udire e i muti li fa parlare. Amen. Gloria a Dio. E' una bella storia quella che abbiamo appena letto. Una storia molto particolare, se non altro perché c'è una guarigione molto particolare. Un uomo, un sordo muto, si trovava insieme ad una grande folla ad attendere l'arrivo e la presenza di Cristo Gesù. Gesù si trovò a passare da quel luogo e incontrò questo uomo, appunto, che aveva questo problema. E si rivolse al Signore. La folla sicuramente fece notare a Gesù della presenza di questo uomo, ma siamo convinti che nulla sfugge all'occhio di Cristo Gesù. Egli lo prese, lo condusse fuori in disparte, dove non c'era nessuno, e alzando gli occhi al cielo, Gesù, sospirando, disse, effata, che tradotto, come dice la scrittura, vuol dire apriti. Da quel giorno, da quel momento, dopo quell'intervento glorioso del Signore, cambiò tutto nella vita di quell'uomo. Abbiamo letto che gli orecchi gli si aprirono, la lingua immediatamente si sciolse a quell'uomo e iniziò a parlare molto bene. Prima era scritto che parlava stento. Da questo momento in poi inizia a parlare molto bene perché Gesù ha fatto un'opera completa nella sua vita. Una guarigione meravigliosa, totale, senza dubbio, una guarigione che soltanto Gesù può fare nella vita di coloro che si affidano a Lui. Ed è interessante notare quanto dicono gli altri la folla che si presentò in quel giorno davanti a Gesù. Abbiamo letto al versetto 37 che erano pieni di stupore e dicevano egli ha fatto ogni cosa bene. E con l'aiuto del Signore brevemente vogliamo parlare proprio di questa frase, di questo stupore che quegli uomini ebbero nel dire egli ha fatto ogni cosa bene. Perché noi crediamo che il Signore ha fatto ogni cosa bene. E la Bibbia, la Sacra Bibbia ci mostra in maniera chiara tutto quello che ha fatto il Signore. Non soltanto ce lo mostra, ma ci fa comprendere che quello che il Signore ha fatto lo ha fatto bene. E a partire dalla Genesi, quindi dalla creazione del mondo, della terra, dell'universo, noi sappiamo che il Signore ha fatto ogni cosa e l'ha fatta bene. Tutti quanti noi sicuramente siamo rimasti meravigliati dallo splendore del sole, dalla bellezza del cielo, dalla luna, la notte che illumina i nostri passi. Sicuramente ciascuno di noi, guardando al cielo, ha potuto considerare la gloria del Signore. Bene, noi sappiamo che il cielo, il sole, la terra, tutto quello che in esse è stato creato da Dio. E possiamo dire che il Signore ha fatto ogni cosa e l'ha fatta bene. Ha fatto bene il cielo, ha fatto bene la terra e il Signore ha fatto bene tutto quello che la terra contiene, perché Egli ha creato la vita. E possiamo dire che il Signore l'ha fatta bene. Ha fatto tutto bene. Il ciclo della vita è eccezionale. Se dovessimo considerare come si nasce, si cresce e poi si muore, anche questo fa parte della vita, dobbiamo sicuramente riporre la nostra attenzione nel considerare che il Signore ha fatto ogni cosa bene. D'altronde il libro della Genesi ci dice che la terra produsse della vegetazione, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie e degli alberi che portavano del frutto, avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. Fu sera, fu mattina, terzo giorno, perché quando il Signore ha creato la vita, l'ha creata e l'ha fatta bene, perché Egli è l'iddio sovrano e l'onnipotente. Ma ancora, la Bibbia ci parla di un'altra creazione che è stata fatta bene dal Signore. Addirittura alla fine di questa creazione il Signore non dirà soltanto che fu una creazione buona, ma dirà che tutto quello che aveva fatto era molto buono, perché il Signore ha fatto un'altra cosa bene, ed è l'uomo. Lo ha creato a sua immagine, a sua somiglianza. Lo ha fatto bene, perché è una macchina, lasciatemi dire, che funziona meglio di un orologio. Ogni parte del nostro corpo ha una funzione, il nostro braccio ha un suo ruolo e non si comporta da gamba, il nostro piede ha un suo ruolo e non si comporta da orecchio. Tutto è messo bene, al posto giusto, perché il Signore ha fatto ogni cosa bene. E oltre alla creazione, il cielo, la terra, la vita, l'uomo stesso, oltre a tutto questo, c'è un'altra cosa che il Signore ha fatto bene. E l'ha fatta per noi. Il Signore per noi ha fatto bene un'altra cosa. Ci ha provveduto una salvezza. L'ha fatto per noi, l'ha fatto per gli uomini, per quella stessa creazione che con tanto amore il Signore ha fatto. Ha fatto una cosa bene, ci ha dato la possibilità di essere salvati. Ma che cos'è questa salvezza? Se ne parla tanto, si parla tanto di verità. Tutti hanno la presunzione di saper dire sempre cos'è la verità, qual è la verità, qual è la strada giusta, qual è la condizione giusta. Ma questa salvezza, in fin dei conti, che cos'è? Cos'è questa parola che ci è stata insegnata, salvezza? Cos'è in realtà? Proprio perché sappiamo che il Signore ha fatto bene la salvezza. Noi possiamo dire, secondo quello che ci insegna la scrittura, che è la parola di Dio, che la salvezza non è nient'altro quella condizione di essere al sicuro perché Gesù è entrato nel proprio cuore. Ecco cosa ha fatto il Signore. Ci ha provveduto una salvezza e lo ha fatto bene. Certo, quel Gesù di cui abbiamo letto questa bella storia, che si trovava in quei territori, fu un uomo che ha fatto tante cose bene. Ha guarito dei ciechi, ha guarito degli storpi, dei paralitici, il Signore ha guarito dei lebrosi. Il Signore ha fatto grandi cose, ha moltiplicato i pani, ha trasformato l'acqua in vino, ha fatto tante cose bene. Ma più di tutte, senza nulla togliere a quello che il Signore ha fatto su questa terra, c'è una cosa che ha fatto veramente bene. Dobbiamo pensare che Gesù si trovava nella gloria del cielo ed è venuto su questa terra per dare a noi il perdono dei peccati. E ha fatto questo talmente bene che è stato necessario dover morire sulla croce. È stato inchiodato ed erano i nostri peccati che ha portato. Non solo, il Signore ha fatto ogni cosa bene perché il terzo giorno dopo essere morto su quella croce è risorto. E non finisce qui perché siccome il Signore ha fatto tutto bene, Egli, Cristo Gesù, in questo momento si trova alla destra del Padre e sta intercedendo per ciascuno di noi, affinché il Signore possa continuare a salvare e possa concedere il perdono dei nostri peccati. Ditemi voi, se questa non è un'opera fatta bene. Il Signore ha fatto ogni cosa meravigliosa, l'ha fatta in maniera gloriosa e in questa sera ci dà la possibilità di usufruire di quest'opera che è stata fatta bene. Fratelli, il Signore nella nostra vita ha fatto un'opera buona che porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Coraggio, andiamo avanti perché il Signore si prende cura di noi. Noi siamo certi che il Signore per ciascuno di noi ha fatto un'opera buona e l'invito che rivolgiamo a quanti ascoltano questa parola è di andare a Cristo Gesù perché in questa sera, in questo momento, Egli è pronto a fare un'opera buona nella vita di quanti si arrendono nelle sue mani. Egli ha fatto un'opera e quest'opera è un'opera buona e a Lui sia la gloria per questo. Tutti quanti vogliamo continuare a rifugiarci in questo Dio che non è soltanto l'iddio delle guarigioni fisiche, non è soltanto l'iddio che ci può aiutare nei momenti difficili, non è soltanto l'iddio che può intervenire quando noi abbiamo bisogno. Egli è l'iddio che ha fatto ogni cosa bene e che in questo momento ci vuole dare il suo dono più prezioso, la salvezza in Cristo Gesù, nostro Salvatore, nostro Signore che è benedetto in eterno. Grazie.